È necessario una maggiore liquidità, è necessario adottare misure e ricorrere a tutti gli strumenti che l'ordiamento europeo ha a disposizione per far fronte, finanziari, economici, sociali, per far fronte a questa emergenza. Fiancheggiato dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri e da quello del lavoro Nunzia Catalfo, il premier Giuseppe Conte ha annunciato lo stanziamento di fino a 25 miliardi di euro per far fronte all'emergenza coronavirus. Si tratta di 20 miliardi in termini di indebitamento netto. Il decreto sarà avvarato venerdì e per il momento implicherà 12 miliardi per mutui e tasse sospesi, ma non si escludono ulteriori misure. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato un'integrazione alla relazione al Parlamento che avevamo già inviato, portando la richiesta di scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica a 20 miliardi in termini di indebitamento netto che corrispondono a 25 miliardi in termini di maggiori stanziamenti di bilancio per competenza e cassa. Queste risorse verranno utilizzate in parte nel primo decreto che stiamo preparando, che contiamo di approvare in settimana, probabilmente venerdì, e che dovrebbe grossomodo avere a disposizione risorse per circa 12 miliardi. Per concludere, va sottolineato che anche alla luce dell'impegno positivo dell'Unione Europea, è possibile poi che alcune di questi interventi potranno in qualche modo usufruire di risorse comuni europee e quindi alleggerire ulteriormente l'impatto sul bilancio dello Stato. Per quanto riguarda la nomina di un supercommissario per l'emergenza, il Premier ha dichiarato che ora questo sarebbe un errore. Presto però potrebbero essere emanate misure ancora più restrittive per la popolazione al fine di limitare i contagi. Qui c'è un'emergenza sanitaria dove la competenza delle regioni. Non credo che in questa fase, in questo momento, ci sia la minima efficacia nell'avocare i poteri e le competenze che spettano alle regioni.